Favorevole. Aula. 13.500 della Commissione. Favorevole. Aula. 13.67 e 8. Anzi, 8 è ritirato. Sono identici. 13.6 e 13.7. Ciprini. Favorevole. E Marrone. Marrone. 13.9. Ciprini. Favorevole. Favorevole. 13.11. Ciprini. Favorevole. Favorevole. 13.12. Meloni accantonato. 13.700. Commissione. Contrario. Aula. 13.14. Ritirato. 13.16. Centemero. Mi rimetto all'Aula. Favorevole. 13.20. Ciprini. Favorevole. Favorevole. 13.23. Favorevole. Favorevole. 13.25. Favorevole. Favorevole. È ritirato, chiedo scusa, non ce l'avevo segnato io un fascicolo, però ci hanno detto adesso che è ritirato. 13.30. Gribaudo. Favorevole. Favorevole. Stiamo parlando della... Riformulazione. La riformulazione. Del riformulazione. 13.34 centemero. 13.35 o chiudo. Favorevole. Favorevole. 13.36. Ciprini. Mi rimetto all'Aula. Favorevole. 13.37. Gniecchi. Favorevole. Mi rimetto all'Aula. 13.38. Contrari. Ci rimettiamo all'Aula. Anche questo mi dicono che è stato ritirato insieme al 13.39 successivo. Quindi andiamo al 13.41 Dorina Bianchi. Contrari. Anche esso ritirato. 13.43. Pesco. Favorevole. Favorevole. 13.47. Lombardi. Favorevole. Favorevole. 13.53 Dorina Bianchi è ritirato. 13.54 Cominardi. Mi rimetto all'Aula. Favorevole. 13.55 Cominardi. Favorevole. Favorevole. 13.56. 40. Immagino 40 sia favorevole. Favorevole. Favorevole anch'io. 13.57 Cominardi. Favorevole. Favorevole. 13.59 Baroni. Contrario. Favorevole. 13.60 Cauci è ritirato. 13.61 Sanga. Favorevole. Contrario. 13.62 Taricco. Contrario. Contrario. Non abbiamo aggiuntivi. Perfetto. Governo. Conforme al relatore di maggioranza. Bene. Passiamo al 13.1 Ciprini. Contrario Commissione Governo. Contrario. Contrario. Grazie.